l'attaccamento a questa terra, ho chiamato una macchina Modena, la 360 Modena, un'altra Maranello, un'altra Fiorano, un'altra Enzo che come parlare di Modena e questo è il centro di eccellenza, bello, storico, con un grande spirito, con una cultura, una disciplina, una passione, è un centro di eccellenza e quando la Ferrari e l'Accademia stanno insieme dimostrano anche l'eccellenza dell'Italia e di questa terra. Scusate. Scusate. Con un'immaginona Con un'immaginona che ciòa ta è la Anna offrire l'academia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.